Sono le 13 e 23 del 28 gennaio 2023, ci troviamo qui alla selva dei prati, ecco ci sono i prati cappuccini, e qui cosa c'è? Guardate cosa c'è, chi vuole fare un po' di sport, natura, salute, passatempo e felicità. Si cammina a quest'altra parte, quindi le escursioni sono infinite, c'è l'imbarazzo della scelta, lì sotto c'è zona picnic, qui nel corso degli anni, c'è la Iberduni, il più d'agosto, Oh, qua è una particolare, guardate, 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 a proposito, questi erano terreni seminati, 50, 70, 80 anni fa, era pieno di ciliegie, alberi di ciliegio, Ecco la famosa selva, vedete, ed ecco, attrezzi questi sono stati messi dal comune Marzi, questi si prendono circa 40 anni, eppure questi sono integri, qui, nonostante qui sia umido, vedete, si vuole fare in ginnastica. Adesso che facciamo? La prossima altassa, si, qui qualcuno è venuto a tagliare la quercia, si, c'è sempre chi mi ha tagliato, oh, guardate che magnifico percorso.